Benvenuti a questo nuovo video, oggi voglio parlarvi delle strutture le strutture che sono un tipo di nodo molto importante nella programmazione di LabVIEW della National il flusso, cosa fanno queste strutture? Non fanno altro che controllare il flusso del programma proprio come accade nei linguaggi di programmazione standard le strutture si trovano nella libreria structures del menu Appalette Function alcune delle strutture sono il while, il for il case structure, il flat sequence e il formula node in un altro video ho già parlato del while loop il for loop il for loop è un ciclo che contiene due terminali uno di conteggio ed uno di iterazione come si possono vedere in queste immagini conteggio e iterazione la struttura esegue il codice all'interno all'interno del sub diagramma un numero di volte prefissato tante quante sono impostate nel controllo numerico sono impostate nel conteggio o con un controllo numerico quindi possiamo variare il numero di cicli eseguibili oppure mediante una costante numerica sempre collegata al terminale di conteggio il ciclo del for loop è equivalente al pseudocodice dei linguaggi di programmazione for i uguale a 0 to o fino a n-1 esegui il sub diagramma come possiamo vedere in questo esempio il terminale di iterazione invece contiene il numero delle iterazioni attuali cioè in quel momento del ciclo completate fino a quel momento durante la prima o prima di cominciare l'iterazione qui in uscita del terminale di iterazione avremo un valore 0 1 al secondo ciclo 2,3 fino a n-1 se al terminale di conteggio n si collega il valore 0 al posto di qualsiasi altro valore non sarà eseguito in nessun ciclo in questo caso vediamo che il ciclo sarà eseguito 10 volte ma ovviamente troveremo i valori che vanno da 0 fino al no cioè 10 volte il ciclo può essere temporizzato come vi avevo già fatto vedere per il while loop può essere temporizzato mediante due funzioni o anche di più cioè il wait wait until next milliseconds multiply e si trova nell'interno della funzione del menu timing del programma della funzione della funzione del programming all'ingresso della funzione wait può essere un controllo collegato o un controllo numerico per avere la possibilità di variare il tempo di temporizzazione oppure mettere una costante numerica in questo esempio che vedremo subito dopo con l'abview userò anche un generatore di numeri casuali un random number che si trova all'interno dei valori numerici cos'è un random number? un random number è un programmino che produce un numero a virgola morbida a precisione doppia compreso tra 0 e 1 il numero generato è maggiore o uguale a 0 ma minore di 1 la distribuzione è uniforme andiamo a vedere adesso il nostro programmino quindi andiamo a cercare il sulle strutture il for loop lo inseriamo nel diagramma a blocchi clicchiamo sopra per mettere una crea una costante e usiamo una costante di valore 10 all'interno sui numerici sul menu dei numerici andiamo a cercare il nostro random number da 0 a 1 siccome i valori sono da 0 a 1 vogliamo aumentare il valore quindi possiamo usare una moltiplicazione ritorniamo sul menu dei numerici multiply colleghiamo all'altro capo della moltiplicazione crea una costante mettiamo il valore 100 così i valori generati dal random saranno moltiplicati per 100 mettiamo il nostro temporizzatore timing usiamo il weight in millisecond e sulla parte di sinistra creiamo la nostra costante siccome il timing è in millisecondi mettiamo una costante mille che equivale ad un secondo adesso andiamo a completare questo nostro esempio per vedere la funzionalità del for loop andando a mettere degli oggetti sul pannello frontale userò semplicemente due due scusate due indicatori numerici non controlli due indicatori numerici vado ad aumentare il valore della costante così per vedere meglio vado a cambiare l'etichetta e possiamo scrivere che questo qui è il nostro valore il nostro valore della moltiplicazione cambio anche qui la sua etichetta dopo prendo faccio un copy and colla ctrl c ctrl v e questo qua lo userò per visualizzare i valori dell'iterazione quindi scrivo numero iterazioni ovviamente nel blocco del diagramma diagramma blocchi mi trovo i due oggetti i due indicatori numerici che avevo posto nel pannello frontale vado a collegare il valore all'interno della for loop e lo collego in modo da visualizzare il risultato del generatore numerico con il 100 il numero di iterazioni invece lo metto all'interno del ciclo ma per visualizzare il numero dei cicli il programma praticamente è concluso serve solo per vedere cosa succede in che modo lavora il for loop un esempio banale semplicissimo andiamo a lanciare il nostro programma mettendolo in in run e andiamo a vedere che cosa succede avete visto che partiva da zero ogni ciclo adesso usiamo 5 iterazioni questo è il valore 7 iterazioni 8 stop alla fine delle 10 iterazioni da 0 a 9 abbiamo visto che i risultati all'interno del valore sono cambiati quindi il for loop ha eseguito il programma per cui è stato creato e cioè eseguire 10 volte la moltiplicazione del valore del generatore random numerico per 100 questo è un semplicissimo esempio per comprendere il funzionamento del ciclo for loop grazie per aver visualizzato questo video se vi è piaciuto se avete piacere potete iscrivervi al mio canale e alla prossima arrivederci